Riapre i battenti, giovedì 27 settembre, la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Una partenza in grande stile, visto che fino al 20 gennaio 2013 la GAMEC ospiterà la quarta edizione di Artist Film International, una mostra di video che vede la collaborazione di importanti istituzioni internazionali. Fatti con 13 musei in tutto il mondo, dalla Cina, agli Stati Uniti, all'Europa. Lo Spazio Zero della GAMEC ospiterà inoltre la mostra The Logo Rhythmic, progetto vincitore della sesta edizione del premio Lorenzo Bonaldi per l'Arte Enterprise. Ma le novità non finiscono qui, arriva infatti anche Bergamo Scienza. Inauguriamo invece in collaborazione con l'Università di Bergamo, l'Istituto di Geografia, il 6 di ottobre, una mostra che si chiama C-Arte, che è una mostra di cartografia e arte che va dal Rinascimento ai giorni nostri e mette in relazione opere d'arte con mappe antiche e contemporanee del mondo.